perciò ho pensato chi è che sapeva di questa cosa a parte la mia famiglia a parte la mia famiglia tre persone sapevano di questa cosa il mio allenatore che è mio fratello praticamente pippo e non il pippega intendo pippo il mio amico che è perché se era il pippega era automaticamente lui per dire che era risolta chiaro esatto pippo che lo conosco da 25 anni ci sono cresciuto insieme lo conosco dalle elementarie cioè non è fuori sono tutti due pure discussione e la terza persona che sapeva sta cosa era la tipa che frequentavo fino a gennaio fino alla prima metà di gennaio che cosa non volevo segnalarti no vabbè ma te non sei nella lista diciamo che ok quindi queste tre persone queste tre persone tolte pippo e sam che non non mi ha nemmeno sfiorato il pensiero perché so che non potrebbero nemmeno in nessun metaverso fare una roba del genere è rimasta soltanto statizia perciò l'ipotesi l'ipotesi che i poliziotti conoscerono le mie live era andata dal 100 per cento al 20 per cento perché ho detto magari uno guarda le live ma perché allora quelli là sono due fratelli e questa tizia non è tua sorella che rapporto avete no era una persona era una persona che frequentavo non era non c'era una questione di amicizia roba del genere era una persona che ho frequentato di cui da cui io mi sono allontanato perché ho iniziato a vedere comportamenti tossici e ho detto cazzo vuoi vedere che comunque lei non l'ha presa bene questa cosa ha detto vuoi vedere che mo questa me l'ha messa nel culo perché era l'unica l'unica persona che non lo sapeva nessuno non lo sapeva il mio coinquilino non lo sapeva ma quindi cioè tu pensavi che lei potesse avere dei risentimenti nei tuoi confronti per qualcosa certo all'ottocento per cento che lei ha dei risentimenti nei miei confronti per il semplice fatto che non che non volevo più vederla c'è la frustrazione capitola non so come ma magari c'è ci sono altri esempi di altre volte che ha provato a danneggiarti in qualche modo allora a me personalmente no però quando quando la stavo quando la stavo conoscendo questa tizia io poi sono stato un babbo di minchia perché avrei veramente potuto già in quel frangente togliermi dai coglioni senza approfondire nulla però quando quando la quando la stavo conoscendo praticamente mi ha raccontato ancora non mi conosceva di persona mi ha raccontato che lei praticamente era fidanzata con un personal trainer della palestra dove va ok questo è personal trainer praticamente l'ha lasciata la lasciata non voleva più avere a che fare con lei e praticamente lei voleva denunciare questo tizio per violenze sessuali in palestra anche se non era successo nulla capito cioè una roba veramente sporca ovviamente non faremo nomi ma dico questa cosa te l'ha detta lei cioè tradisse lei al tempo me la disse lei al tempo ti confessò proprio la ipotesi l'ipotesi di false accuse esatto sì 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 io in quel frangente ti faccio cioè anche non conoscere faccio ma che cazzo stai dicendo cioè nel senso anche non si fanno ste cose non non si fanno neanche non c'è non si fanno nemmeno le persone di non puoi fare una roba del genere una persona soltanto perché non vuole più stare con te non ha senso cioè anche t'avesse tradita anche t'avesse tradita che la beccata che si trombava un'altra non puoi cioè fargli una roba del genere c'è la denuncia per violenze sessuali in palestra ma che è roba da gravissimo cioè lo buttano fuori al lavoro al cento per cento anche prima anche prima di un'eventuale condanna sì 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 tempo zero tempo zero una roba è una roba impressionante ok no quindi vabbè diciamo che l'associazione è stata la seguente detto quasi sicuramente si tratta di questa persona anche perché rimuovendo il discorso live quindi non guardano ai live nessuno avrebbe potuto segnalarti perché nessuno lo sapeva quindi anche magari un utente in chat però nessuno corrente al di fuori di queste tre persone ma tu hai parlato poi con questa persona no no io non ci voglio nemmeno avere niente a che posso scoperchiare il vaso di pandora che ho detto all'inizio perché siamo proprio giunti ci siamo arrivati pure a ricordi logica no ma mo mettiamo sta ciliegina sì però senza nome ovvio questa persona ci ha contattati caro ercole perché voleva che facessimo una live contro te crede questo è proprio un sunto di tutti i papiri che mi ha scritto ma veramente sì quando queste cose non sono state diciamo assecondate è arrivata anche a insultare diciamo giorgia la mia ragazza ha iniziato a insultarmi dopo di che l'ho bloccata ma questo quanto tempo fa simo ma un mesetto cioè mi ha mandato tanti messaggi aspetta 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 per essere chiari tanti messaggi nel nel corso magari di tanto tempo ma da un anno a questa parte ma l'escalation ovviamente un mesetto fa quando l'ho bloccata avete giorgia in chat dice si va bene inizio ci voleva provare con te e vabbè giorgia dai non andiamo off topic non andiamo off topic ma scusa simo ma io non ho capito un mese fa no lei ti scrisse per parlare di questa cosa cioè per fare una live contro di ercole su questa cosa qui lei accusava ercole di cose come vai cose del tipo sono curioso dillo no è in privato in privato ti mando tutto perché ho scrinnato tutto senza fare nomi puoi dire di che cosa ero accusato cioè te lo sto dicendo ti sto dando il permesso di essere un part di essere un molto breve anche forse la live su che cazzo fai nel senso che mi drogo a livello immagino emotivo no ma tanto c'è sono cose che in qualsiasi coppia che si lascia non qualsiasi ma spesso e volentieri ci si accusa a vicenda quindi c'è ovviamente non sono cose su cui fare una live e ma specie sei solo un lato tra l'altro della questione sì anche perché ti conosciamo e sarebbe stato in qualche modo awkward ma comunque non capivo le pretese di questa persona e appunto ripeto è arrivata ad insultare me e la mia ragazza e bla 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 dalla frustrazione capito soltanto perché non gli hai dato retta pensa cosa abbia fatto pensa che cosa che cosa ha potuto fare a me invece cioè quindi quando abbiamo saputo questa storia abbiamo fatto abbiamo avuto il momento eureka no cioè è così ovvio avendo avuto anche noi a che fare che diciamo che siamo quasi sicuri cioè io sono sicuro al 99.9 per cento immagino pure tu sì 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 assolutamente